Buonasera e bentrovati, vediamo subito i titoli di oggi. Buonasera e bentrovati. Commissione consigliare Fiume oggi a Rimini per fare il punto sul futuro del CEIS e dell'anfiteatro, confermato il trasloco in area Settebello. Sabato in piazzale Fellini il movimento delle sardine per Black Lives Matter contro il razzismo e in piazza Cavour le sentinelle di Restiamo Liberi che si oppongono alla proposta della nuova legge sull'omotransfobia. Ben rientrati in studio, calano dunque i nuovi positivi al coronavirus in regione. Intanto si è registrato un solo caso a Rimini, si tratta di un uomo asintomatico e questo è il sesto giorno senza decessi. Sentiamo. La miglior notizia di giornata però riguarda i decessi. Per il sesto giorno consecutivo nessuna vittima da coronavirus nell'intera regione. Resta stabile il numero dei ricoverati nei reparti Covid, mentre scende sotto quota 10 quello delle persone in terapia intensiva. A livello regionale sono 5 le guarigioni comunicate, 13 invece i casi attivi, cioè il numero dei malati effettivi, ancora 1193 in totale. Sempre monitorati con attenzione i focolai bolognesi alla TNT e alla Bartolini, così come quello scolpiato ieri a Modena in un prosciuttificio, dove sono risultate positive 18 persone. E intanto la regione studia un giro di vite per evitare nuovi focolai. In serata il presidente Bonaccini firmerà una nuova ordinanza, i cui contenuti sono stati anticipati oggi pomeriggio dall'assessore Donini. Sentiamo. Questa ordinanza sostanzialmente si compone di quattro assi fondamentali. Il primo riguarda i soggetti cittadini che rientrano dall'estero e che sono rientrati dai paesi extra-UE e sono rientrati ovviamente dai paesi che non rientrano, che non sono ricompresi nella lista dei paesi che invece il governo ha assolutamente stoppato. Questi cittadini noi faremo sia all'ingresso in Emilia Romagna il tampone nasofaringeo, sia dopo sette giorni. Secondo punto, limitare i focolai domestici. Laddove non dovessimo riscontrare l'adeguatezza delle condizioni logistiche dell'abitazione, la persona positiva viene trasferita in un albergo, in una struttura. Passiamo al terzo elemento, cioè un contrasto ai focolai che si sono verificati nel settore della logistica e nel settore della macellazione delle carni. Dobbiamo arrivare da qui al primo agosto a fare in modo che vi sia sostanzialmente un'attività di screening con il tampone nasofaringeo a tutti i lavoratori. Infine il quarto ambito di questa ordinanza riguarda le strutture che sono state all'inizio dell'epidemia e più volte anche in qualche modo oggetto di focolai come ospedali, come CRA, come centri per disabili. Questa ordinanza prevede un adempimento in più, una responsabilità a carico dei familiari, di coloro che andranno a far visita a un anziano in una CRA piuttosto che un degente in ospedale, a qualificarsi, a compilare un'autocertificazione che quindi ha valore legale e penale, dichiarando di non essere in regime di quarantena o isolamento fiduciario. Un giovane medico in vacanza a Rimini nella notte tra sabato e domenica, l'1.30, è andato a sbattere con un monopattino elettrico contro un'ambulanza ferma per un intervento all'altezza di Piazzale Kennedy. Il giovane medico aveva un tasso alcolemico di 1,86 grammi per litro, ovvero quasi il quadruplo del limite consentito dal codice della strada, che lo ricordiamo disciplina anche l'utilizzo dei mezzi elettrici su due ruote, tra cui rientrano anche i monopattini elettrici. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti su segnalazione dei sanitari, per il giovane non è scattato il ritiro della patente perché non è necessaria per condurre il monopattino, ma è stato denunciato per guida in stato di ebrezza ed è stato segnalato alla prefettura. E torniamo adesso a parlare del caso Dentix, che coinvolge decine di riminesi. Se dalla clinica chiusa da mesi non arrivano risposte, alcuni spiragli invece si stanno aprendo da parte delle società finanziarie. Allora noi ne abbiamo parlato questa mattina con l'avvocato Urbinati della Feder Consumatori di Rimini. Sembra ancora lontana una schiarita sulla travagliata vicenda Dentix, la catena di cliniche odontoiatriche spagnola che conta 57 ambulatori in tutta Italia e che non ha più riaperto dopo il lockdown. Lo scorso 25 giugno la società ha fatto richiesta di concordato preventivo al Tribunale di Milano, ma nel frattempo sono tanti i pazienti in difficoltà, dal punto di vista sanitario, con interventi lasciati a metà o neppure iniziati, e da quello economico, con cure già pagate e contratti in essere con le finanziarie da onorare. Tanti i riminesi coinvolti. Solo nella prima settimana abbiamo raccolto più di 70 segnalazioni di persone che, nella migliore dell'ipotesi, hanno già iniziato i lavori, le cure, mentre ce n'è ancora un cospicuo numero che in realtà ha solo siglato i finanziamenti e firmato i preventivi di riferimento, ma non ha iniziato neanche una cura. Ci sono dei casi eclatanti di intere famiglie coinvolte in più generazioni, quindi nonni, figli e nipoti. Abbiamo anche dei casi di bambini con degli apparecchi installati, dei dilatatori del palato che hanno necessità di essere appunto costantemente monitorati, che sono stati totalmente privati di questo tipo di cure. Per quanto riguarda la Dentix, effettivamente ancora la situazione è fumosa, anche se non abbiamo un riferimento certo, cosa che invece non accade con le società finanziarie. In un paio di casi, mi riferisco a due finanziarie in particolare, sono già arrivati i primi riscontri che consentono in questo stato emergenziale, perché effettivamente è un'emergenza, di sostendere il pagamento delle rate, almeno fino alla fine del mese di agosto. In attesa di verificare appunto situazione per situazione. Il futuro del CEIS, il centro educativo italo-svizzero di Rimini, è stato al centro questo pomeriggio di una commissione fiume, alla quale hanno partecipato anche i vertici del centro educativo. Si è discusso anche degli abusi edilizi rilevati nel centro e del destino dell'anfiteatro romano. Sentiamo. Il futuro del CEIS è nell'area Settebello e il comune potrebbe venirne in possesso anche prima della chiusura dell'accordo con FS per l'area stazione. Lo ha specificato l'assessore Frisoni nel corso della commissione congiunta, seconda e quarta, convocata per fare il punto della situazione su anfiteatro e centro educativo italo-svizzero. Nessun piano B, quindi, nonostante le sollecitazioni da parte di molti esponenti di minoranza a prendere in considerazione anche altre aree già di proprietà comunale e quindi utilizzabili in tempi più rapidi e certi. Il futuro del CEIS è poi direttamente connesso al recupero e alla valorizzazione dell'anfiteatro romano che insiste proprio sotto il centro educativo. È una priorità per questa amministrazione, ha detto l'assessore, ma non è immediato né facile recuperare l'anfiteatro perché servono risorse che vanno ben oltre la capacità dell'amministrazione stessa. L'ipotesi da perseguire potrebbe essere quella di sollecitare il governo a farsi carico del progetto e dei costi. Al centro della discussione, anche lo stato di fatto relativo agli abusi edilizie rilevati al CEIS. La scorsa settimana sono arrivate anche le ordinanze di demolizione entro 90 giorni, ma anche queste potrebbero essere impugnate e i tempi si allungherebbero. Sugli abusi ci sarebbe da parlare, ha detto il neopresidente CEIS, Zaghini, in collegamento con la Commissione, manifestando la preoccupazione delle famiglie degli studenti. Il 14 settembre vorremmo aprire la scuola, ha proseguito, dicendosi però disponibile a sedersi ad un tavolo con l'amministrazione. La valenza culturale del centro è stata unanimemente riconosciuta da tutti i consiglieri, secondo i quali il trasloco potrebbe essere anche l'occasione per ampliare gli spazi, consentendo ad esempio l'avvio delle scuole medie. La minoranza però ha espresso molti dubbi sulla gestione della vicenda da parte dell'amministrazione e sulla reale volontà di recuperare l'anfiteatro romano. Sabato pomeriggio si è svolta l'iniziativa promossa dal Movimento delle Sardine in Piazzale Fellini, a Rimini, Black Lives Matter, contro gli attacchi razzisti che hanno coinvolto persone di colore negli USA. In concomitanza si è svolta anche la manifestazione silenziosa del Movimento Restiamo Liberi, che si oppone alla proposta della nuova legge sull'omotransfobia. Vediamo. Una grande scritta arcobaleno sullo spiazzo della Fontana dei Quattro Cavalli ha sottolineare che non c'è un solo colore. Anche a Rimini, Black Lives Matter, le vite dei neri contano, è il messaggio del Movimento Attivista Internazionale, nato negli USA e all'interno della comunità afroamericana, impegnato nella lotta contro il razzismo verso le persone nere. Rimini ha preso una posizione chiara nei confronti degli attacchi razzisti, che purtroppo sono ancora troppo presenti negli USA, ma anche in Italia e in Europa. Rifiutiamo ogni tipo di discriminazione, di odio razziale, di abuso di potere, recitava l'invito alla manifestazione. Molti dicono che sia ridicolo dire che le vite dei neri contano, perché tutte le vite contano. Ed è vero, tutte le vite contano. Però mi chiedo, le persone sono mai state ammazzate per il loro colore di pelle? Ma noi con questa scritta abbiamo voluto ribadire che siamo tutti uguali. Fatevelo questa domanda. Cosa ti cambia? Cosa ti cambia avere una persona nera vicino? Non cambia assolutamente nere. Niente è davvero una persona bianca vicino. Io non vedo neri e bianchi, io vedo persone. La manifestazione ha raccolto anche le rivendicazioni di arci gay contro l'omofobia. In concomitanza, sempre sabato infatti, ma in centro storico, in piazza Cavour, come in decine di altre città italiane, si sono svolte le iniziative della campagna Restiamo liberi, 100 piazze per la verità, promossa dalle sentinelle e altre realtà che si oppongono alla proposta della nuova legge sull'omotransfobia, definita una legge liberticida. I partecipanti hanno manifestato silenziosamente mostrando dei cartelli. E per noi è tutto per questa edizione. Vi ringrazio dell'attenzione e vi ricordo che domani mattina c'è il consueto appuntamento con la rassegna stampa locale a partire dalle 7.30, poi tutta la mattina dedicata agli approfondimenti e all'informazione. Vi ricordo ovviamente il nostro sito di informazione newsremini.it, le frequenze di Radio Icaro e anche la piattaforma Icaro Play, sulla quale potete rivedere tutti i nostri contenuti e i nostri programmi. Grazie, buona serata.